Far finta di essere sani, far finta di essere Vanno tutte le coppie, vanno... Benvenuti a tutti, oggi sono qua con gli Eugenio Mirigioia, o meglio un quorum. In questa rubrica noi abbiamo chiesto a ognuno degli artisti di scegliere una canzone e Eugenio mi ha indicato La Solitudine. La solitudine non è mica una follia È indispensabile per star bene in compagnia Uno fa quel che può L'ho trovata una scelta molto curiosa per una band che suona in quattro, quel paradosso, nel senso voi non fate niente in solitudine invece... Che parla proprio di questo, di quanto sia importante a volte stare da soli con se stessi e ritrovare la pace da sé e poi trasmetterla agli altri. Nel nostro caso il gruppo è partito, che non era una democrazia, anche in questo mi viene da fare un collegamento logico. Era per lo più un'idea personale mia che poi ho provato a raccontare a loro ed è diventata poi di tutti. Ci sono dei temi nel cantautorato del passato che non sono tanto considerati perché secondo me non esisteva una sensibilità. Voi per esempio invece avete sempre avuto una grande accortezza sul tema ambientale che è una cosa che a memoria è citata pochissime volte nella musica fino al 2000, per dirci, no? Il punto focale è questo. Quando noi lo abbiamo preso, intercettato, questo tema non era ancora generazionale. Cioè la nostra generazione non sente come la generazione che sta arrivando, il tema dell'ambiente, diciamo, come principale, come fondamentale. Grazie. Grazie.